Ambasciatore Barzani, lei rappresenta l'Iraq qui in Italia a Roma e a Lungotevere, Roma, questa sera per l'inaugurazione di due importanti mostre. Qual è il legame tra la sua terra e l'arte? La mia terra è la Mesopotamia dove hanno scoperto l'agricoltura, l'arte, le scritture, tutto. Quindi la Mesopotamia e l'arte hanno una storia di migliaia di anni. Con Roma abbiamo un legame molto forte, due imperi storici importanti, due civilità importanti e con la nostra cara amica Karen abbiamo un'amicizia e abbiamo già inaugurato il mese scorso una grande mostra a Alto Aldige per commemorare la pace dopo cento anni della prima guerra mondiale. Quindi sono andato lì perché la pace è una cosa universale e dovremmo tutti lavorare per la pace. Io so che in Ambasciata voi siete molto attivi in questo tema, state organizzando delle cose in funzione proprio della pace. Ci può spiegare cosa? Sì, facciamo ogni anno un festival per la pace e il dialogo fra le nazioni, facciamo le mostre e partecipiamo a tutte le mostre sulla pace, sul dialogo fra le civiltà, le nazioni. La mosa è all'interno dell'Ambasciata? Sì, perché l'Ambasciata è molto grande a Via della Chiamiluccia, quindi ogni anno abbiamo molte mostre artistici per la scultura, per la pittura e abbiamo anche dei conferenzi, non solo sul tema della pace, però sul tema del dialogo e dei scambi fra le nazioni, soprattutto con l'Italia, un paese, il paese dell'altro, l'arte e il paese della cultura. La voce della pace per voi è sicuramente un argomento molto importante in questo momento, quindi state anche molto attenti a cosa accade, mi pare. Da circa 40 anni c'è la guerra da noi, sfortunatamente penso che il problema è il petrolio, il problema è anche la posizione strategica dell'Iraq e la sua storia, la sua profondità culturale. Quindi quando in 2003 abbiamo iniziato il processo di democratizzazione ha fatto paura a tutti i terroristi, a tutti i dittatori nella zona e la guerra c'è, però spero che al fine di questo anno o al prossimo anno con l'aiuto del mondo libero possiamo finire con questa guerra che viene dall'estero. Sono circa 100 paesi diversi questi terroristi che vengono in Iraq, però spero che con l'aiuto dei paesi democratici possiamo finire con questa invasione. Noi abbiamo tutta un'estate per parlare di pace qui a Lungo Tevere Roma, grazie mille. Grazie a lei e grazie per l'invito, è un'iniziativa bellissima, complimenti a Lungo Tevere, vengo sempre ogni anno a questa iniziativa bellissima e soprattutto adesso che abbiamo questa mostra della nostra amica Karen. Grazie mille, grazie di nuovo.